Una ditta per l'assistenza domiciliare in ospedale nel mirino della finanza, sanzionata per incassi e lavoratori in nero. Stoccaggio rifiuti non autorizzato, la polizia provinciale ha sequestrato il terreno di un'impresa idile a Villa Dossola. Da marcato a forte il pericolo valanghe sulle nostre montagne, appello alla prudenza del presidente delle aree protette dell'Ossola. Si è riunito nei giorni scorsi il comitato nato per salvare la filiale BNL a Massino Visconti, raccolte 700 firme. L'8 marzo in collegiata a Domodossola il concerto Cattedrali con Antonella Ruggero e Roberto Olzer all'organo. Esultano Paffoni e Mami, Omenia vince a Latina e pensa alla salvezza diretta, la squadra di Vescovi centra l'impresa contro 100. Ben ritrovati dalla redazione di Vicianotizia, questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca, evasione fiscale per 900 mila euro in tre anni e 26 lavoratori in nero. Sono le irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza in seguito a una verifica su una ditta per l'assistenza domiciliare e in ospedale. La contabilità era doppia. In un file del computer c'era quella ufficiale, mentre in un altro quella nascosta, dove venivano accuratamente annotati in cassa i nomi dei clienti, uscite con i compensi per tutti i dipendenti, anche quelli in nero. Un sistema preciso che ha facilitato il lavoro della Guardia di Finanza, che ha compiuto una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale che opera nel settore dell'assistenza agli anziani, sia domiciliare che in ospedali e case di cura. I militari hanno scoperto che dall'ottobre del 2011 al dicembre del 2014 l'imprenditore non avrebbe dichiarato ricavi per circa 900 mila euro, con un relativo mancato versamento dell'IVA per circa 157 mila euro, dell'IRAP per oltre 28 mila euro e di ritenute fiscali sui compensi dei lavoratori per altri 97 mila euro. Non solo, le fiamme gialle della compagna di Verbagna hanno anche scoperto che dei circa 90 dipendenti che lavoravano per l'azienda, sia italiani che stranieri, 63 avevano contratti con orari inferiori rispetto a quelli che effettivamente venivano praticati, mentre 26 erano totalmente in nero. Un dato che è emerso sia dal file segreto trovato nel PC sia dal riscontro con i registri delle case di cura degli ospedali nei quali i dipendenti svolgevano attività di assistenza ad anziani e malati. Dal registro della casa di cura risultava la presenza al capezzale del paziente fino a 8 o 9 ore, mentre secondo il contratto di lavoro avrebbero dovuto svolgere turni tra le 2 e le 4 ore. Le ore in più venivano pagate in nero. Per il titolare dell'azienda sono scattate sanzioni amministrative sia per violazioni delle norme in materia fiscale che del diritto del lavoro. Forse doloso, forse un cortocircuito, un surriscaldamento dei circuiti motore, le cause dell'incendio che ha distrutto un furgone, cabinato e due auto articolati nella zona industriale di Borgo Ticino. È accaduto nella notte di sabato in via Cesare Pavese una traversa di via per Castelletto dove c'è un parcheggio dei mezzi pesanti della logistica di trasporti Andricciola. L'allarme è stato dato da un autotrasportatore che era arrivato sul posto per la sosta dopo un viaggio dal sud Italia. Sul posto i vigili del fuoco della caserma di Arona, Novara e Borgo Manero. La correre dei rinforzi non è servita ad avere ragione per tempo delle fiamme che hanno divorato prima una Fiat Iveco Daily e poi due auto articolati. Proprio dal furgone più piccolo, secondo i primi accertamenti, sarebbero scaturite le fiamme che hanno procurato un danno quantificabile tra i 250 e i 300 mila euro. Del fatto si stanno occupando i carabinieri della caserma di Borgo Ticino e del comando di Arona. Sequestrato dalla Polizia Provinciale un terreno nei pressi dell'uscita della superstrada di Villa Dossola. Sequestrato il terreno di un'impresa edile nelle vicinanze dell'uscita della superstrada di Villa Dossola, l'operazione eseguita nei giorni scorsi è della Polizia Provinciale coadiuvata dal responsabile del servizio rifiuti e bonifiche. Gli agenti intervenuti sul luogo hanno accertato uno stoccaggio di rifiuti perpetrato nel tempo senza alcuna autorizzazione. Sull'area di circa 5 mila metri quadrati è stata riscontrata la presenza di rifiuti di vario genere, anche pericolosi, in parte legati all'attività edile, rifiuti da demolizione già tombati con terriccio e in parte di provenienza ancora da accertare per oltre un centinaio di metri cubi. È stato disposto il sequestro preventivo con comunicazione della notizia di reato ed è stata applicata una sanzione per mancata compilazione del registro di carico scarico rifiuti e compilazione dei formulari di trasporto. L'ARPA provvederà ad eseguire campionamenti tecnici mentre sarà compito della Polizia Provinciale prescrivere le modalità di rimozione dei rifiuti e di bonifica dell'area che, se effettuata nel rispetto delle norme, dei tempi e delle procedure impartite, potrà commutare il reato penale con il pagamento di una sanzione amministrativa. Intanto il sequestro preventivo dell'area e dei rifiuti depositati è stato convalidato con una propria ordinanza dal giudice delle indagini preliminari della Procura di Verbania. Al settimo mese di gravidanza va a fare il prelievo del sangue ma è colta da emorragia, un distacco di placenta. È successo nella tarda mattinata di oggi. La donna, residente in Valle Antrone, è stata salvata grazie alla bravura dell'equip mediche di ginecologia e pediatria del San Biagio di Domodossola. La neomamma sta bene, la piccola, che al momento della nascita pesava 900 grammi, è stata intubata e trasferita in ambulanza al maggiore di Novara. Intanto oggi al punto nascite di Domodossola è arrivata una troupe della vita indiretta dopo il caso della bimba nata venerdì notte in casa a Formazza. Da marcato a forte il pericolo valanghe sulle nostre montagne, si raccomanda dunque la massima prudenza, appello lanciato anche dal presidente delle aree protette dell'ossola, Crosa Lenz, con particolare riferimento all'area del Devero. Forte sulle pennine, marcato sul resto dell'arco alpino, secondo il bollettino Arpa Piemonte, è massima allerta per il pericolo valanghe sulle nostre montagne dopo le nevicate del fine settimana che hanno abbondantemente imbiancato i rilievi, punte di 70-80 cm in Valle Anzasca. Fiocchi ieri anche nella pianura ossolana, qualche centimetro di coltre che però presto è stato sciolto dalla pioggia. A fronte di possibili distacchi in montagna, appello alla prudenza anche del presidente delle aree protette dell'ossola, Paolo Crosa Lenz. Il nostro servizio di vigilanza, sentita anche la decima delegazione valdossola del soccorso alpino, invita ad astenersi dal percorrere gli itinerari sci alpinistici di Ciaspol nel territorio dell'Alpe Devero, dice. Il bollettino valanghe indica pericolo 4, marcato, per cui è sconsigliabile la frequentazione della montagna fino ad assestamento del manto nevoso e richiama l'attenzione a un'attente e competente osservanza delle indicazioni fornite dai bollettini valanghe in corso di continuo aggiornamento. Il pericolo valanghe ha portato alla chiusura domenica pomeriggio della strada Goglio Devero, come previsto dal piano di gestione del rischio valanghe. Il sindaco di Baceno Stefano Costa riferisce però che grazie agli scaricamenti avvenuti nel corso della notte la strada è stata riaperta già nella mattinata di oggi. Non vi è dunque la necessità di procedere con ulteriori bonifiche artificiali. Lo stesso aggiunge che, visto il rialzo delle temperature previsto per domani, si prevede una chiusura della strada nelle ore centrali della giornata. Lo stesso bollettino Arpa per i prossimi giorni spiega che l'intensificazione dei venti da nord determinerà la formazione di nuovi accumuli che potranno in parte facilmente subire un distacco. Sono dunque da valutare con attenzione. Il distacco di una valanga a Lastroni può avvenire già al passaggio del singolo sciatore, soprattutto su pendiri, ipidi, in corrispondenza di canali, colli e cambi di pendenza. Allarme per un mancato rientro nella serata di ieri in Alta Valle Bognanco. Fortunatamente però le persone, a causa dell'abbondante neve caduta, erano rimaste bloccate nella loro baita in zona Paioni. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino decima delegazione Valdossola della stazione di Bognanco che hanno rinvenuto le persone in baita e lese e le hanno accompagnate poi a San Bernardo. Ed ora torniamo sul progetto dell'elettrodotto Interconnector. Dopo gli sviluppi da Torino della scorsa settimana, l'intervento del comitato Salviamo il paesaggio Valdossola e del candidato sindaco a Domodossola, Bernardino Gallo. Non possiamo condividere una posizione tanto subordinata della regione, la quale accetta senza alcuna posizione le decisioni del governo, ben sapendo che il progetto Interconnector non porterà alcun beneficio in termini strategici, economici, occupazionali e sociali ai cittadini piemontesi, tantomeno a quelli residenti nelle zone montane interessate. Così il comitato Salviamo il paesaggio Valdossola dopo le ultime notizie sul Via Libera Interconnector della regione giunte dal Movimento 5 Stelle e la risposta del vicepresidente piemontese Reschigna. Il comitato ricorda che la giunta regionale ha ricevuto a Torino il 18 febbraio rappresentanti territoriali di associazioni e comitati dei cittadini interessati dal progetto. In quell'occasione gli stessi avevano espresso le loro perplessità e contrarietà sulla questione. La giunta, dicono dal comitato, si è espressa ribadendo la propria posizione di mediazione, non dipendendo dalla regione la decisione di fare o non fare l'opera, ma sottolineando come l'infrastruttura sia di interesse strategico nazionale ed europeo. Sempre dal comitato riferiscono di una nota pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente, secondo la quale è stata concessa una sospensione del procedimento di dieci mesi. Su Interconnector anche il candidato sindaco a Domodossola, Bernardino Gallo, che comprende l'importanza dell'opera di Terna, ma scrive, non intendiamo tollerare che si crei un ulteriore vulnus al territorio dell'Ossola che ha già subito numerose ferite. Altra questione segnalata da Gallo è quella non ancora ufficiale di collocare la centrale di tale opera a piedi mulera, magari nei pressi del sito per il nuovo ospedale, allo scopo di tarpare le ali a chi, dice Gallo, pur potendo essere favorevole all'ospedale unico, non lo è per collocarlo in quella che Gallo definisce la disgraziata area di Ornavasso. Gallo sollecita la Regione e Reschigna ad avanzare una soluzione di impatto ambientale prossimo allo zero con l'aggiunta di compensi adeguati che non siano il solito piatto di lenticchie come per altre opere del passato, scrive. Topi alla Terezin di Domodossolo e mancata ordinanza di chiusura della materna da parte dell'amministrazione Cattrini durante la derattizzazione nonostante la richiesta della direzione scolastica protocollata un'interpellanza presentata da Fratelli d'Italia e Nelega Nord. Nel documento si chiede a sindaco e assessore competenti quali sono stati i motivi della mancata ordinanza circa la chiusura temporanea della scuola e per quali ragioni sono state ignorate le istanze della dirigenza scolastica. È nato un comitato contro la chiusura della filiale BNL di Massino Visconti. Nei giorni scorsi la riunione sono già 700 le firme raccolte per chiedere che la banca non chiuda i battenti. Si sono riuniti in comitato i cittadini di Massino Visconti per difendere la loro banca, la banca nazionale del lavoro. La loro filiale è nata 22 anni fa, era stata voluta da Giampiero Cantoni, Giampiero Cantoni che aveva una residenza qui proprio a Massino ed era il presidente nazionale della BNL. Sono già state raccolte 700, siamo quasi a 800 firme, la popolazione non si arrende e vuole difendere questo sportello unico oltre ad un'altra in tutto il Vergante. Finché si riesce uno con la macchina, ma ci sono tanti vecchietti che vanno a prendere su 200 per pagare, i negoziati che sono qui non tutti possono pagare con la carta, allora devono andare giù alla Rona per prendere quei 200-300 Euro. 5 ne pagano e 50 già dal pullman, sono una mezza giornata in giro con la paura che qualcuno gli ha ammazzati in testa. Anche per i forestieri che arrivano a Massino e che si trovano e che si trovano che per la comodità del banco, ma da una cosa o un'altra devono partire e uscire da Massino, stiamo proprio andando un po' a rotoli. Come negoziante mi spiacerebbe perdere un servizio del genere sia a livello personale che a livello di turismo, a livello di orgoglio da Massinese. Anche noi dell'amministrazione comunale di Massino e Visconti siamo qui questa sera per esprimere la nostra vicinanza alla cittadinanza che si sta attivando e abbiamo fatto una delibera di giunta insieme al comune di Brovello Carpugnino e a Geniese per chiedere un ripensamento alla banca che creerebbe un disagio sociale per tutta la cittadinanza, facciamo appello alla funzione sociale che dovrebbe avere anche la banca e chiediamo un ripensamento a questa decisione e abbiamo inviato la delibera anche ai rappresentanti del nostro territorio, quindi sia senatori che onorevoli e anche alle organizzazioni rappresentative delle amministrazioni, quindi sia a Lanci che a LUNCE, aspettiamo riscontri. Abuso di alcol ma anche social network e gioco d'azzardo, Verbagna ha dato il via un progetto insieme a Contorno Viola, al CERT e ai servizi sociali sulle principali problematiche di adolescenti e ragazzi. Abuso di alcol ma anche social network e gioco d'azzardo, l'assessorato alle politiche giovanini del comune di Verbagna ha dato il via un progetto insieme a Contorno Viola, al CERT e al Consorzio dei Servizi Sociali sulle principali problematiche di adolescenti e ragazzi. Oggi un primo incontro con i baristi di Intra, da giovedì al via a serate con professionisti rivolti non solo ai ragazzi ma anche alle loro famiglie. Saranno delle serate aperte al pubblico, quindi non soltanto ai ragazzi ma anche ai genitori e insegnanti. Sono quattro serate che rientrano in un ciclo divulgativo che si chiama appunto Schermo Schermo delle mie brame. La prima serata è prevista per giovedì 3 marzo a Alcobianchi con il professor Rivoltella e riguarda la cyber stupidity, quindi tutti i comportamenti trasgressivi nel web, in particolare il cyberbullismo e il sexting che sono due fenomeni molto diffusi e ultimamente anche un po' di moda, diciamo, in accessione negativa del termine. Le altre serate sono previste per fine marzo, il 31 marzo, con il dottor Mauro Croce sul tema del gioco d'azzardo patologico al Ferrini e una terza serata invece con la dottoressa Franca Beccaria di Eclettica di Torino sul consumo dell'alcol tra i giovani dove appunto si cerca di non demonizzare il consumo alcolico ma anche di educare un consumo in un contesto come il nostro paese che è quello dove c'è anche una tradizione del vino, di quello che ha anche dei valori, insomma, enogastronomici. E un quarto incontro invece è il 12 maggio a Palazzo Flaim con il dottor Michele Marangi, Medi Educator e sarà proprio sui social network più in generale. Prossimamente saranno previste uscite serali nella zona della Movida con Peer Educator e simulatore di guida. Ci sembra molto importante portare avanti questo progetto perché vuol dire porre un'attenzione anche non solo quando ci sono, come dicevo prima, problemi legati ad atti vandalici per chi beve, ma proprio un discorso più legato all'educazione. Ci teniamo molto e invitiamo veramente tutti a partecipare, soprattutto anche alle serate che ci saranno, che sono delle serate ad alto livello. In occasione della festa della donna, tradizionale appuntamento con la musica proposta da Aido che quest'anno fa squadra con CST e liceo scienze umane Antonio Rosmini e propone in collegiata a Domodossola il concerto di Antonella Ruggero e Roberto Olzer. L'8 marzo, in occasione della festa della donna, è incolleggiata a Domodossola alle 21 il concerto per voce e organo Cattedrali con Antonella Ruggero e Roberto Olzer e finalità benefiche. Nei giorni scorsi la presentazione. Cattedrali è l'ultimo progetto musicale della Ruggero nel quale ha messo la sua voce a disposizione della musica sacra. Grande è stato il lavoro di trascrizione degli spartiti da parte di Olzer che rende il concerto unico e inedito. Siccome non esistevano spartiti di questo progetto che lei ha registrato a novembre nel Duomo di Cremona è stato necessario proprio dal disco trascrivere gran parte delle cose e poi attraverso lo studio sullo strumento della collegiata trovare delle soluzioni per rendere quelle sonorità che lei aveva sull'organo di Cremona su questo strumento Bernasconi della nostra collegiata. Da anni in occasione dell'8 marzo Aido Vagliossolane promuove il messaggio della donazione degli organi attraverso la musica e lo spettacolo. Il concerto di quest'anno è organizzato con il Centro Servizi per il Territorio e il Liceo Scienze Umani Antonio Rosmini, progetto musicale. Aido Vagliossolane ha scelto proprio da tempo lo spettacolo, l'arte, la musica, la danza, il teatro, quale veicolo privilegiato proprio per diffondere il proprio messaggio di solidarietà, di condivisione e di aiuto. 8 anni fa abbiamo pensato, perché questo è proprio l'ottavo anno, abbiamo pensato che la giornata internazionale della donna potesse essere un momento particolare per spalancare proprio le porte, diciamo così, dell'attenzione e della cura verso questi problemi, perché è vero che le donne hanno un'attenzione diversa nei confronti di questa problematica e dobbiamo dire che proprio in queste serate noi sentiamo che il nostro messaggio arriva in maniera particolare. Ingresso al concerto 10 euro, i biglietti sono in prevendita a Domodossola presso CST, libreria Grossi, Strabiglia Bar, a Gravellona Parco Commerciale dei Laghi e Intra, presso le librerie Il Libraccio, Ex Margaroi. E ora apriamo la pagina sportiva partendo dal basket e dalle immagini della vittoria della Paffoni a Latina. Era uno snodo cruciale per il campionato, una tappa obbligata per dare concretezza alla missione salvezza diretta, che rimane difficile ma non impossibile, anzi, viste le sconfitte nel turno di domenica, di Rieti e Reggio Calabria ora agganciati dalla Paffoni a quota 18. La Paffoni è passata con assoluto merito sabato sera al Palabianchini contro la Benacquista Latina, conquistando il secondo successo consecutivo in trasferta, il terzo, nelle ultime quattro partite. Lo ha fatto in maniera quasi prepotente, non lasciando spazio e speranza ai padroni di casa, surclassati a livello di energia fin dalla palla a due. È vero che la squadra di Graminzi aveva qualche problema fisico, ma questo non può e non deve inficiare i meriti di una fulgor vicina alla perfezione. La differenza ancora una volta l'ha fatta la premietta ditta Gallo e Smith. Il primo ha giocato un'altra partita a servizio dei compagni, chiusa con 13 punti, 4 su 5 al tiro, 2 su 2 ai liberi, 6 rimbalzi e 4 assist. Il secondo ha scritto a referto 22 punti e 9 rimbalzi, con uno strapotere fisico impressionante, ma accanto a loro hanno brillato altri interpreti, ad esempio un ritrovato di annunzi sicuramente agevolato dai guai fisici e dai falli di Mosley, ma bravo a farsi trovare sempre pronto sugli scarichi. Conferme per Gurini e Casella, entrambi in doppia cifra, così come un cappelletti bravo nella gestione dei possessi importanti. Ora Omenia può vantare un 2-0 negli sconti diretti con Latina, che può avere un peso specifico enorme anche perché la benacquista al quarto K.O. di fila, sente il fiato sul collo delle inseguitrici e rischia di venire trascinata nella bagarre quando fino ad un mese fa cullava legittimi sogni play-off. Come detto, match indirizzato subito sui binari rosso-verdi, pronti via e la Pafoni scappa sul più 5 con 8 punti del primo quarto di Casella. Latina è essenzialmente nuova, ci c'è anche perché mai sparacchia. Al decimo, Omenia avanti 23-19. Il vantaggio cresce nel secondo quarto quando i rosso-verdi provano la prima vera fuga. Un dardo di Galloway, imitato poco dopo da Gurini che confeziona un gioco da 3 punti, valgono una margine in doppia cifra. Ultimi secondi di confusione, Tavernelli ne approfitta per piazzare un 6-0 che contiene i danni per Latina, comunque sotto 48-40. In apertura di terzo quarto, Canestro ancora dell'ex Omenia, Maianunzi comincia a fare la voce grossa. 8 punti consecutivi e nuovo break della Fulgor che scappa e non si fa più riprendere, anche perché Galloway segna da 9 metri, Gurini e Cappelletti colpiscono dall'arco e la Pafoni prende l'arco sul 70-59. Ultimo quarto in totale controllo con Omenia anche a più 20 prima del 78-90 finale. Ed ora in Serie B dove continua il magic moment della Mami, capace di battere anche 100 ed ora i Biancorossi sognano i play-off. 3 su 3. Gli squali disegnano un'altra splendida pagina del loro campionato e nella 24esima giornata mettono da parte altri due punti importantissimi, ancora fra le mura di casa contro 100, tra le corazzate in corsa per il salto di categoria. Una lotta punto a punto durata fino alla fine che ha esaltato il sangue freddo di Ferrari e compagni che hanno acquisito nei finali in volata una sicurezza davvero incredibile. Ora due settimane per ricaricare le pile, visto lo stop per le finali di Coppa Italia a Rimini. Si riprenderà proprio in Romagna ma in campionato al Palaflaminio il prossimo 13 marzo, quando in paio ci saranno punti davvero pesanti per il sogno play-off. Mami in campo con sacco, Crusca, Ferrari, Gallinari e Paesano 100 con Caroldi, De Martini, Bedetti, Benfatto e Andreaus. Gli squali provano subito a scappare con Ferrari che ha la mano calda della lunga e Paesano deciso sotto canestro ma gli ospiti che ne hanno viste tante non si scompongono e ricuciano subito il 7-2 iniziale con Caroldi e Benfatto, asse play-pivot da categoria superiore. La Tramec mette anche il naso avanti con Stupazzoni ma Coviello dall'arca piazza due triple che fanno saltare in piedi il pubblico di fede Novarese. La Mami tenta il mini a lungo sul 35-30. Il match è un susseguirsi di emozioni con le due squadre che rimangono sempre l'una incollata all'altra all'intervallo e 40-38 per i ragazzi di Vescovi con Crusca protagonista. Nel secondo tempo nuovo mini break iniziale per la Mami con Coviello ma i ferraresi con un parzellino di 6-0 rimettono il naso avanti. Ferrari però ispiratissimo e non sbaglia così il tabellone all'ultimo riposo vede ancora avanti la Mami sul punteggio di 57-55. Ultimo quarto che comincia nel segno degli Sharks che volano al massimo vantaggio sul più 9-67-58. Sembra l'allungo propizio ma 100 non si impressiona. 9-0 immediato e parità assoluta a quota 67 quando mancano da giocare. 120 secondi diventano decisivi. Viaggi in lunetta. Resca, Coviello ed ancora Resca firmano il 77-73 quando mancano meno di 30 secondi alla fine. Brighi va a segno da 3 punti e propizia al meno 1. Resca dalla lunetta fa 1 su 2. Il retiro della vittoria dello stesso Brighi per 100 non va a bersaglio e la Mami può festeggiare un'altra impresa in una 2016 davvero ricca di soddisfazioni per i colori bianco-rossi che ora possono davvero sognare in grande. I play-off non sono più una chimiera e la trasferta a Rimini del prossimo 13 marzo potrebbe essere decisiva in questo senso. E chiudiamo con un nuovo appuntamento con dilettanti per dire, ospiti e contenuti della puntata di questa sera alle 20.35 in onda anche domani alle 13 e alle 16.45. Nuovo appuntamento con dilettanti per dire, questa sera dedicato a serie di eccellenza promozione prima categoria nonostante non si siano giocate tante partite, gli ospiti di questa puntata sono con noi Giacomo Baraggioli, collega e amico del quotidiano La Stampa, ciao Giacomo, ciao Daniele, insieme a lui Marco Livorno, responsabile tecnico dell'Accademia Verbagna, ciao Marco, ciao buona serata. Dopo X mesi, 6-7 mesi di questo nuovo progetto possiamo dare già un primo giudizio, un voto? Ottimo, adesso ottimo, anno zero, però siamo molto avanti rispetto a quello che pensavamo di poter fare, adesso l'acquisizione degli impianti come avrai letto dal bando ci dà ulteriore linfa per poter fare ancora di meglio, sicuramente adesso non dobbiamo sederci e adesso è un momento difficile e quindi bisogna lavorare ancora più seriamente, ma siamo un gruppo coeso e molto preparato, preparato nel senso di soffrire per questa cosa, per darci mano a mano. Tante società a Verbagna che fanno la prima squadra, due che fanno il settore giovanile, con quale di quelli che fanno la prima squadra andate più d'accordo? Noi andiamo d'accordo con tutti, andiamo d'accordo con tutti, con tutti quelli che vorranno acquisire i nostri giovani, che verranno vederli, che verranno a vedere i nostri ragazzi, non ci sono canali preferenziali, chi vorrà ripeto, lavorare con noi, noi siamo ben accettati. Giacomo che segue soprattutto serie di eccellenza, ma non solo, lo sport in che non gioca, c'è il turno di fa settimanale mercoledì, però si bea del Parigi della Caronnese, tanti piccoli indizi, ovvio che ci sono i debiti scongiuri da parte di tutti, però fanno pensare che possa davvero essere un anno storico e indimenticabile. Direi proprio di sì, anche perché ti trovi in questa posizione di classifica e se alzi un po' lo sguardo vedi che in Lega Pro l'anno prossimo potresti ritrovarti piazze come Venezia, Parma, Piacenza e poi comunque Como che potrebbe retrocedere dalla serie B. Sì, scusami, ti viene l'appetito, per cui se, ma non credo ci fosse bisogno di nuovi stimoli a questo punto, trovarsi lì a così poche partite dalla fine del campionato, nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere, visti gli avversari, tutti i problemi che può avere il calcio, di questo e tanto altro parleremo, qui è direttante per dire. Io vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info, per il momento è tutto, grazie per averci seguiti e arrivederci alle prossime edizioni.